Ben trovati, per le prossime lezioni di storia su Risorgimento leggerò e commenterò insieme a voi un passo tratto dall'opera di Giuseppe Prezzolini, L'Italia finisce, ecco quel che resta, un libro pubblicato in italiano nel 1958 ma già uscito negli Stati Uniti dieci anni prima con il titolo The Legacy of Italy, l'eredità dell'Italia. È un testo indubbiamente datato ma come poi vedrete strada facendo merita perché ci fornisce degli spunti di riflessione di grande attualità. Considerate quando questo testo fu pubblicato, Prezzolini è uno dei più grandi intellettuali italiani del novecento, attraversa tutta la storia del novecento, pensate che morirà a cent'anni esatti nel 1982, dunque una vita lunga che attraversa tra la fine dell'ottocento e si dispiega tra la fine dell'ottocento e tutto il corso del novecento. Dicevo, il libro merita ed è poi estremamente sintetico, almeno il paragrafo che riguarda il risorgimento italiano sarebbe il capitolo 26 del libro, in realtà a volo d'angelo Prezzolini riesamina tutta la storia d'Italia. Il titolo del brano che leggiamo e commentiamo e che è anche presente nel nostro gruppo, nella nostra classe virtuale, nonché sul blog, è Il risorgimento italiano, una rivoluzione compiuta dagli altri, il sottotitolo. Leggo alla fine di ogni paragrafo, mi fermo e commento. Il termine risorgimento italiano si applica generalmente a quel periodo della storia d'Italia che incomincia, grossomodo, con la rivoluzione francese o, al più tardi, nell'anno 1815, per concludersi con la formazione del Regno d'Italia, 1861. Tuttavia, siccome nessun periodo storico può essere circoscritto in modo preciso, vedremo che sebbene l'inizio del risorgimento possa considerarsi precedente la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, si può dire che continui a lungo dopo la fondazione del Regno, poiché gli scopi nazionali non furono interamente raggiunti se non con la guerra all'Austria del 1518. Questo movimento rivolse i suoi sforzi ad unificare la penisola che fin dall'epoca romana era rimasta una molteplicità di stati. Fu evento della massima importanza per l'Italia e, in grado minore, per l'Europa. Ora, il termine risorgimento, il significato del termine risorgimento, che viene dal verbo risorgere, è abbastanza evidente. Risorgere significa sollevarsi, rinascere, in senso transitivo può anche significare riportare in vita, rianimare, risvegliare. Sollevarsi, risvegliarsi, rinascere è un termine naturalmente che viene coniato nell'Ottocento e fa riferimento ad un'epoca di grandezza, ad un'epoca passata che doveva in qualche maniera essere ripristinata. È un pochino come il termine rinascimento, una nuova nascita, nuova nascita rispetto all'età antica evidentemente. Anche qui il sorgere di nuovo è l'idea che la nazione italiana rinasceva dopo un periodo di decadenza ma rifacendosi ad un periodo storico in cui effettivamente già era stata. Già inteso in questa maniera il termine di sorgimento, se ci pensiamo bene, è abbastanza discutibile perché un'Italia unita prima del 1861 non era mai esistita nell'arco della storia mondiale, a meno che non pensiamo all'Italia cuore dell'impero romano, ma appunto l'impero romano in quanto tale all'inizio ha una dimensione cittadina, la polis, Roma, poi pian piano Roma espande il suo dominio a gran parte della penisola, ma poi quando viene fondato l'impero romano l'Italia è un'espressione geografica importante, è la sede del cuore della capitale dell'impero, ma di fatto non ha uno statuto particolare rispetto alle altre province, cioè non esiste un'Italia piuttosto che una Spagna in termini nazionali, esiste l'impero che in quanto tale è multinazionale per così dire, multietnico, appunto la dimensione dell'impero è molto lontana ed è molto differente dall'idea di Stato-Nazione, ma insomma, il termine di sorgimento è il nome che fu dato ad un giornale diretto a Torino da Cavour e da Cesare Balbo, è uscito per la prima volta del 1847, quindi alla vigilia poi dei voti del 1848-49 e nonché della prima guerra di indipendenza. I due direttori, cioè Balbo e Cavour, personaggi chiave del nostro risorgimento, con il termine risorgimento intendono riferirsi alla rivolta degli Stati italiani contro la dominazione straniera, da una parte e dall'altra allo sviluppo economico e sociale in direzione del progresso. Quindi nel termine risorgimento ci sono compresi due concetti, il primo riguarda la lotta contro la dominazione straniera, cioè in particolare contro l'austriaco, e in secondo luogo risorgere significa anche sviluppo economico e sociale, vuol dire progresso, quindi c'è un riferimento chiaro all'illuminismo, al trionfo delle borghesia, della ragione tra 700 e 800. L'800 è appunto il secolo dello sviluppo, di spiegarsi delle potenzialità del capitalismo e della classe borghese, questo lo abbiamo già studiato. Continuo sempre commentando il testo di Prezzolini. Prezzolini fa riferimento ad un periodo che va dalla restaurazione, cioè dal congresso di Venn, nel 1815, fino alla proclamazione del Regno d'Italia, 17 marzo 1861. Questa è una possibilità di periodizzazione, in realtà ne contiamo almeno altre due di periodizzazioni. La seconda prende in considerazione gli eventi che vanno dal 1848 e finiscono nel 1870, quindi questo ventennio, poco più di un ventennio, questo ventennio comprende le tre guerre di indipendenza, la prima guerra di indipendenza, 1848-1849, che si conclude con la sconfitta dell'esercito piemontese di Carlo Alberto, dunque nulla di fatto per così dire. Poi c'è la seconda guerra guerra di indipendenza, quella del 59, che si conclude con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, dopo la celebre spedizione di Garibaldi nel sud, della spedizione dei 1000. Poi abbiamo il terzo episodio significativo, quello del 1866, ovvero la cosiddetta terza guerra di indipendenza. Al Regno d'Italia viene annesso il Veneto, strappato, è una parte del Friuli strappata all'Austria, anche qui l'esercito italiano, a questo punto si può parlare di esercito italiano, visto che il Regno d'Italia era già andato da cinque anni, subisce una serie di sconfitte importanti, a Custozza, Via Terra e a Lissa, Via Mare, ma la guerra è tuttavia vinta al momento che il Regno d'Italia si era alleato con la Prussia, il Regno di Prussia, il Regno di Prussia aveva riportato vittorie significative contro l'Austria, quindi alla fine l'Austria è costretta all'armistizio e a cedere il Veneto al Regno di Prussia, che poi lo cederà all'Italia, un po' la stessa cosa che era avvenuta all'epoca della seconda guerra di indipendenza, in cui sostanzialmente era stato l'esercito francese di Napoleone III, che aveva contribuito alla vittoria del Piemonte, dalla fortunata campagna del piccolo Regno di Sardegna contro l'Austria, e dunque l'Austria, costretta a cedere la Lombardia, la cede al sovrano francese che poi la girerà, per così dire, a Vittorio Emanuele II. L'ultimo evento significativo per quanto riguarda questa seconda proposta di periodizzazione è il 1870, il famoso 20 settembre 1870, la breccia di Portapia, la presa di Roma, quindi anche Roma viene annissa al Regno d'Italia e poi successivamente qualche anno dopo diventerà la capitale d'Italia. La terza proposta di periodizzazione invece è quella che va sostanzialmente dall'inizio dell'età, delle campagne napoleoniche, della campagna napoleonica, quindi partiamo dalla rivoluzione francese, 1796 per quanto riguarda l'Italia, quindi questa è una periodizzazione lunga per così dire, e arriva fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, che taluni considerano la Quarta Guerra, la Quarta Guerra di Indipendenza, ovvero il cammino verso l'unità d'Italia in questo caso sarebbe durato più di un secolo e si parte dai primi moti rivoluzionari, insomma dalla prima volta in cui nasce, inizia a nascere, i circoli intellettuali, patriottici, l'idea d'Italia, pensate che all'epoca della Cisalpina, cioè la Repubblica fondata dai francesi in Italia risale il primo tricolore, il tricolore italiano, la bandiera italiana è stata disegnata sulla falsariga del tricolore francese che a sua volta, come sapete, è la bandiera della rivoluzione e i colori del tricolore francese sono i colori della municipalità parigina. Quindi va dalla campagna napoleonica e arriva fino al compimento definitivo dell'unità, il compimento definitivo dell'unità viene visto con la fine della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra, che fa sì che il Regno d'Italia acquisisca le cosiddette terre irredente, cioè fondamentalmente Trento e Trieste, a cui sono dedicate tanti viali, tante piazze in tutte le città italiane, no? Trento e Trieste, cioè il Trentino Alto Adige e la Venezia Giulia, ovvero quei territori abitati da tempi memorabili, da popolazioni di lingua e di cultura italiana che ancora, fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, erano sotto il dominio austriaco. Andiamo avanti, continuo a leggere Prezzolini. Storici del risorgimento italiano hanno discusso se il movimento fosse di origine italiana o straniera. Per coloro che seguivano la corrente nazionalista, dominante negli anni del fascismo, le origini latenti del risorgimento sono state ricercate negli scrittori italiani del Settecento e perfino del Seicento. Si è fatto un tentativo di minimizzare l'importanza avuta dalla rivoluzione francese come sforzo stimolante di esso. Dunque, commento, dunque in epoca fascista in particolare, l'altra volta vi ho parlato dei miti fondativi del nostro paese e del fatto che la storia effettivamente la si riscrive, la si ripensa, a seconda anche del presente, dell'attualità, delle esigenze politiche del momento. Allora, insistere sulla tesi dell'origine, per così dire, indigena, autoctona del risorgimento italiano, in epoca fascista in particolare, è stato fondamentale per non far dipendere il risorgimento italiano da elementi stranieri. Come dire, l'Italia l'abbiamo fatta noi italiani senza l'aiuto, comunque senza avere punti di riferimento esteri. Dunque si tendeva a minimizzare l'apporto della rivoluzione francese rispetto al risorgimento italiano, proprio perché ci sa, ci puzza, di francese per così dire. Certamente, continuo con Prezzolini, certamente si possono trovare fra le classi educate d'Italia nel Settecento inizi e incitamenti ad un movimento per la riforma delle istituzioni per l'indipendenza nazionale. Tuttavia rimane il fatto che il risorgimento nell'indirizzo e nello sviluppo che ebbe non creò nessuna istituzione di carattere italiano. La monarchia costituzionale, il risultato politico maggiore per il risorgimento, non è idea italiana, bensì inglese. La divisione amministrativa dell'Italia in province, anziché in regioni, con una capitale centrale invece che di vari centri locali, deriva dalla Francia della rivoluzione. L'idea unitaria e accentatrice stessa, che infine superò le correnti federaliste e regionaliste, è in contrasto con l'intero svolgimento della storia italiana, la quale è regionale e col contenuto della civiltà italiana, essenzialmente universale. Ad eccezione di pochi individui isolati come il Cuoco, il Cattaneo ed il Ferrari, non vi è traccia di tentativo, durante il risorgimento, di risolvere il problema dell'unificazione italiana con una seria presa di possesso dei vari problemi della penisola. Gli italiani d'allora hanno in mira delle astrattezze, così il movimento, anche se ebbe origini proprie, finì con l'assumere il carattere di una imitazione di forme politiche straniere. Dunque, il giudizio di Prezzolini, in questo paragrafo, mi sembra abbastanza netto, evidente, è un giudizio netto. È vero, indubbiamente movimenti culturali in cui si parlava dell'Italia, ma se vogliamo dell'Italia parla anche un grande intellettuale come Machiavelli e ne parla sin dal Cinquecento, nell'ultimo capitolo del Principe, in particolare nella parte conclusiva del libro, si fa riferimento all'Italia, all'unizione d'Italia, in qualche maniera ne parla anche Guicciardini e tanti altri studiosi intellettuali italiani ne avevano parlato, ne parla anche un Leopardi, Leopardi già vive nell'Ottocento, dunque vive già all'epoca dei moti rivoluzionari, quantomeno, almeno dei primi moti rivoluzionari, quindi l'idea d'Italia era già effettivamente nata. Tuttavia queste prese di posizioni di singoli intellettuali poco hanno a che vedere con la storia d'Italia in senso politico e compiuto. Effettivamente la storia d'Italia è sempre stata una storia fondamentalmente di tipo regionale, se non provinciale, se non effettivamente cittadino. L'Italia è il paese delle mille città, dei mille borghi, tutti questi borghi hanno una loro ragione d'essere, hanno una storia e sono ancora oggi molto gelosi di questa storia. Pensate al termine campanilismo, termine tipicamente italiano, per cui i pisani e i fiorentini ancora oggi nutrono una rivalità accesa gli uni verso gli altri, o addirittura la strapaese, pensate ai conflitti diciamo tra quartiere e quartiere, tra borgata e borgata, il Paglio di Siena, o in tempi più recenti le sfide, i derby, Milan-Inter piuttosto che Roma-Lazio. Quindi l'identità italiana è sempre stata legata al localismo, al municipalismo, oppure se si parla in termini generali, culturali, quindi le grandi voci di umanissimo rinascimento, per esempio i valori italiani effettivamente sono valori di tipo universale, cioè il rinascimento non è stata impresa di tipo nazionale, ma è stata impresa di tipo universale, generale, un Leonardo da Vinci o un Michelangelo non appartengono alla storia locale, alla storia italiana, non hanno connotazioni di tipo nazionale, tanto meno nazionalistico, hanno connotazioni di tipo umano, universale, anche la ripresa dei valori del mondo antico durante il rinascimento effettivamente fa riferimento ad una visione di tipo ecumenica, quella dell'ellenismo o dell'impero romano, della tradizione universalistica, anche lo stesso cristianesimo è di per sé ecumenico, universale, e così via. Differente questo dai miti fondativi di un paese, faccio solo un esempio, come la Francia, se vi ricordate, per esempio la vicenda di Giovanna d'Arco durante la guerra dei cent'anni ha un valore alla fine nazionale, locale, cioè non riguarda tutta l'Europa, ma riguarda specificamente quel paese lì, la Francia, che in quel momento era coinvolto in una guerra, la guerra dei cent'anni contro il regno d'Inghilterra, che culminerà appunto con la nascita effettiva dello Stato nazionale e di un senso di appartenenza che i francesi hanno da più di cinque secoli, pensate alla Spagna, alla riconquista spagnola, anche lì la Spagna ha un'identità nazionale che si è formata nel corso del basso medioevo, la riconquista è durata diversi secoli, dall'undicesimo al quindicesimo secolo, e ha creato, come dire, l'infrastruttura mentale, culturale, il senso di appartenenza che dominerà poi, costituirà, come dire, lo scheletro della visione nazionale spagnola. Ecco, tutto questo in Italia non c'è stato e dunque il tentativo di ricostruire a posteriori dei momenti di patriottismo, ante litteram, il tentativo che viene fatto tra il 700 e l'800, pensate alla disfida di Barletta, Ettore Fieramosca, i cavalieri italiani contro i cavalieri francesi, una sorta di sfida nazionale, di coppa europea ante litteram, lascia il tempo che trova, in realtà poi scopriamo che i cavalieri italiani, non sappiamo nemmeno di essere italiani, erano soldati al soldo degli spagnoli, no? Oppure altre figure più o meno mitiche come Balilla a Genova o Pietro Micca, insomma, sono episodi che hanno una dimensione localistica, Genova piuttosto che Torino, e effettivamente lasciano il tempo che trovano rispetto alla questione nazionale. I risultati, ecco, i risultati del risorgimento italiano non hanno nulla a che vedere con la storia d'Italia, che è appunto localistica, municipalistica, anzi vanno proprio in una direzione opposta, fa notare, fa notare Prezzolini che effettivamente il punto d'arrivo, lo Stato unitario, la monarchia unitaria centralizzata ci ricorda da vicino la Francia della rivoluzione, no? Anche il concetto di provincia è un concetto che abbiamo ripreso, che è stato ripreso tout court dalla rivoluzione francese, dal sistema statuale, amministrativo francese, così come moltissime norme, no? Sono state riprese dal codice civile napoleonico, di questo abbiamo già parlato, no? Si pensi alla normale di Pisa, piuttosto che al sistema metrico decimale e così via. Insomma, abbiamo preso categorie, sono state prese categorie, idee nate altrove, nate in Francia in particolare e sono state applicate ad una realtà, in alcuni casi anche in maniera forzata, da qui, no? Tutti i problemi che poi l'Italia post-unitaria dovrà affrontare, sono stati applicati da una realtà, presi da una realtà, quella francese, applicati ad una realtà all'otria, diversa, quella italiana. L'altro riferimento che fa Prezzolini nel testo è quello alla monarchia costituzionale, no? E anche all'idea di parlamentarismo, lo sappiamo bene, qui a far scuola sono stati gli inglesi, quindi la rivoluzione inglese che abbiamo studiato all'inizio dell'anno, cioè l'idea della monarchia nazionale non ha nulla a che vedere con il nostro paese, con l'Italia, non è un'invenzione italiana. In un certo senso, lo anticipo, no? In un certo senso l'unica idea politica, l'unica forma politica che effettivamente possiamo dire essere nata in Italia, in gran parte essere nata in Italia, quindi ne possiamo rivendicare la paternità, è il fascismo. Il fascismo poi nel corso del Novecento ha fatto scuola ed è effettivamente questa un'invenzione italiana, è stato l'unico momento in cui diciamo un'idea italiana ha avarcato poi le frontiere, idea italiana come idea di tipo politico-statuale particolare, non universale, non culturale universale come rinascimento. Ecco, l'unico momento è stato quello del fascismo, in effetti abbiamo esportato questa idea, volenti o nolenti, forse più nolenti che volenti, un po' dappertutto, no? Dalla Spagna di Franco, lì volenti, perché abbiamo partecipato tra il 36 e il 39 attivamente alla guerra civile spagnola e poi da lì al resto del mondo, no? Pensate, insomma, all'Argentina di Perón, piuttosto che al Cile di Pinochet, al regime dei colonnelli in Grecia e così via. Continuo a leggere, riprendo la lettura di Prezzolini. Una sola classe partecipò in maniera considerevole al risorgimento, quella media. La popolazione rurale, cioè la grande maggioranza degli italiani, in tempi in cui l'industria era molto piccola e le città non affollate, rimase strane alla lotta, e le fu persino ostile. Fra i mille volontari di Garibaldi, fa impressione non trovare un solo contadino. Vado un'occhiata alla lista dei martiri del risorgimento e vi troverete soltanto avvocati, professori, mercanti, preti, studenti universitari, proprietari di terre e di case, e qualche raro operaio appartenente in generale alla fazione mazziniana e al nord Italia. Il risorgimento italiano fu esclusivamente la rivoluzione di una classe, eroico abuso, come fu chiamato, imposto al paese da una minoranza. I sentimenti e gli interessi che animavano i protagonisti principali del risorgimento, dapprima l'indipendenza dal gioco straniero e poi la libertà politica interna, furono condivisi soltanto dalla classe colta, da coloro che avevano proprietà o beni ed erano economicamente ben sistemati. Non si trattava di interessi che potessero attrarre le masse rurali, come in Francia durante la rivoluzione, o svegliare lo spirito di razza, come in Germania durante le guerre napoleoniche. Vi fermo qui. Commento della Germania all'epoca delle guerre napoleoniche, della Francia all'epoca della rivoluzione, abbiamo detto a suo tempo, quindi dovreste essere abbastanza ferrati. Allora, qui Prezzolini esamina, ecco, come dire, la partecipazione, fa il punto sulla partecipazione, così dire, alla rivoluzione italiana, se il risorgimento può essere considerato una sorta di rivoluzione, e nota come partecipare al risorgimento effettivamente è stata una sola classe, quella media, cioè la borghesia, sostanzialmente. Fare l'Italia unita, quel tipo di Italia unita, perché l'Italia unita, poi lo vedremo successivamente, poteva essere fatta in tante altre maniere diverse, è molto interessante perché da una parte noi tratteremo, poi in maniera un po' più analitica, delle singole vicende, dei singoli fatti, però tratteremo anche del dibattito risorgimentale su come doveva essere fatta l'Italia, quindi vedremo come è stata effettivamente fatta, nel bene e nel male, naturalmente, ma cercheremo anche di renderci conto di quale fosse il pensiero degli intellettuali, degli uomini politici del tempo, grandi ideologi, grandi personaggi come Giuseppe Mazzini, Balbo, Cattaneo, Gioberti, i quali avevano in mente un'idea d'Italia decisamente diversa, varie idee d'Italia diverse. Per esempio, lo anticipo velocemente, a prevalere fu la tesi unitaria, ma in quegli anni anche la tesi federalistica ebbe molto credito, tra l'altro la tesi federalistica sembrava quella più idonea ad affermarsi in una realtà frammentata, provinciale, quale quella italiana, quindi più coerente a quella che era stata la storia d'Italia, mentre la scelta unitaria, che poi effettivamente prese piede, faceva violenza, indubbiamente, a quella che era stata la storia d'Italia, eppure inizia quella unitaria. La scelta monarchica, la monarchia, con a capo il regno di Sardegna, il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, quel Vittorio Emanuele II, re di Sardegna che non volle nemmeno cambiare nome quando diventò il primo re d'Italia, quindi continuò a chiamarsi secondo, Vittorio Emanuele II, non Vittorio Emanuele I, re d'Italia, tanto per segnalare una certa continuità tra il regno di Sardegna e le sue istituzioni e quello che poi sarà il regno d'Italia. Ecco, quindi anche qui l'ipotesi, diciamo, monarchica e attrazione piemontese si affermò e alla fine l'ebbe vinta sull'idea repubblicana sostituita da un gigante del pensiero e della politica ottocentesca quale, discutibile quanto vi pare, ma indubbiamente un gigante quale fu Giuseppe Mazzini. Per la Repubblica dovremmo attendere poi la RSI, la Repubblica Sociale Italiana, che in qualche maniera da lontana si richiamava Mazzini, anche se in maniera estremamente molto distorta, per carità, e poi, se no, alla Repubblica del 46, insomma, quella che esce dal referendum del 2 giugno del 46, quindi pensate a quanti anni effettivamente passano. Quindi, ecco, vedremo come effettivamente a realizzare l'unità d'Italia e a volere l'unità di quell'Italia fatta in quella maniera fu principalmente la classe borghese, fu la vittoria della classe borghese. E perché, per esempio, l'Italia unitaria e non quella delle tante nazioni, quella del federale? Perché effettivamente l'Italia unitaria, alla fine, è quella che presenta, diciamo, delle caratteristiche più idonee allo sviluppo dell'economia capitalistica, un unico grande mercato, al posto di tanti mercati frammentari, sia pure collegati tra di loro in senso federalistico, ma comunque separati da confini effettivi. L'Italia unitaria, quindi, come unico mercato, conviene ad una certa classe borghese, in particolare alla nascente classe industriale. Ecco, Prezzolini fa questo esempio abbastanza eclatante. Andate a vedere, andate a sfogliare le carte dei nomi dei volontari che seguirono Garibaldi, i mille, i famosi mille erano poco più di mille, poi diventarono diecimila, centomila e così via, ma insomma i mille sono quasi tutti borghesi, professionisti, avvocati, professori mercanti, ma un pochino se ci pensate la stessa estrazione sociale, economico-sociale dei protagonisti della rivoluzione francese. Robespierre, Danton, Marat, sono tutti giornalisti avvocati di provincia, ma insomma piccola media borghesia. L'altro termine che usa Prezzolini è eroico abuso. Eroico abuso, cioè quel tipo di unità d'Italia viene imposto da un gruppo tutto sommato limitato di persone alla sta grande maggioranza, alla sta grande maggioranza degli italiani che non sapevano di essere italiani e che magari non volevano nemmeno essere italiani, non in quella maniera, beh, zappavano la terra, facevano quel mestiere lì, in fin dei conti tutti noi, o la gran parte di noi, se va a cercare all'indietro di cinque, sei generazioni, quindi arriviamo all'ottocento, alla metà dell'ottocento, siamo tutti figli di contadini, veniamo tutti dalla campagna di quelli che non sono emigrati nelle Americhe, per esempio, ognuno di noi, ogni famiglia ha almeno un bisnonno, un trisnonno o un nonno che è emigrato in Argentina, piuttosto che in Brasile, in Australia, contadini che in genere non se la passavano affatto bene. Ecco, questi non hanno avuto voce in capitolo. Anzi, la cosa interessante, l'abbiamo già visto all'epoca studiando la rivoluzione francese, studiando la dominazione francese napoleonica in Italia, tutte le volte che i contadini mettono mano ai forconi, è inia di massima per appoggiare dei movimenti contro rivoluzionari, reazionari. Pensate alla fine della Repubblica Napoletana, Repubblica Partenopea, quella del 1799, i famosi sanferisti, la maggior parte sono contadini. Ecco, sono contadini i quali il nome della Santa Fete, un po' come i Vandeani, mettono fine all'esperienza della Repubblica Partenopea. Alla stessa maniera, se ci pensate, parliamo sempre del sud d'Italia, in particolare i vari tentativi di far sorgere la rivoluzione infiammando il popolo, e quindi facendo una rivoluzione dal basso, pensate alla spedizione dei Fratelli Bandiera o di Carlo Pisacane, e si conclude che non nulla di fatto, anzi è la popolazione locale lungi dal prendere le armi in appoggio dei patrioti che venivano via mare dal nord, prendono le armi per cacciarli via, oppure li consegnano alle autorità borboniche, o li fanno letteralmente a pezzi. Quindi quando il contadino deve prendere le armi non si batte per l'Italia, ma si batte contro l'Italia, o comunque contro quell'idea di Italia. Ultimo paragrafo per oggi, poi la prossima volta proseguiamo la lettura da dove l'abbiamo lasciata oggi, leggo sempre Crezzolini. Di conseguenza il risorgimento italiano si svolse e rimase alla superficie delle condizioni reali del paese. Fu guidato da una minoranza, talvolta eroica e generalmente onesta, sottolineo onesta, sempre molto superiore per cultura al resto della gente, dato che poteva stare allo stesso livello con l'elemento colto dell'Europa occidentale. Ma la distanza che correva fra gli intellettuali italiani e il popolo era molto più grande di quella che separava tali classi in altri paesi europei. Limitati di numero, i patrioti italiani non trovarono appoggio fra le classi più povere, ma poterono fino ad un certo punto attrarle col prestigio della ricchezza e la spinta della costrizione, spesso anche con rumorosa retorica. Pure, in ultima analisi, le masse rimasero appartate e indifferenti all'ordine nuovo, estraneo ad esse quanto un governo straniero, del quale non capivano la lingua, mentre ne subivano invece le imposizioni, senza vedere i vantaggi che più tardi ne sarebbero derivati. La borghesia italiana impose il regno d'Italia al popolo italiano, proprio come un conquistatore straniero impone il regime che desidera. E poiché il nocciolo dell'esercito partecipante alla guerra di unificazione e gli elementi che formavano le schiere della nuova burocrazia erano piemontesi, in gran parte d'Italia il popolo parlò per decenni di conquista piemontese, il sorgimento come conquista piemontese. I funzionari del governo e gli ufficiali dell'esercito regio furono chiamati piemontesi, quando non venivano soprannominati con l'ingiurioso epiteto di buzzurri, ovvero montanari svizzeri che un tempo vendevano castagni arrosto per le strade d'Italia. Questo è il significato del termine buzzurri. Ecco, per oggi ci fermiamo qui nella lettura del passo di Prezzolini, un veloce commento per terminare. Ecco, chi fece l'Italia, effettivamente, quella minoranza che fece l'Italia, in parte, dice Prezzolini, composta da personaggi assolutamente onesti, cioè quella idealità che troviamo nei testi, nei proclami dell'epoca risorgimentale, che a noi oggi ci appare spesso inzuppata di retorica e quindi ci suona, ci potrebbe suonare come ipocrita, Beh, in effetti non è così, cioè la gente, pensate che, non so, un Mameli muore giovanissimo nella difesa della Repubblica Romana nel 49 e tra le sue carte si ritrova il famoso inno di Mameli, la poesia, il testo, l'inno di Mameli che poi diventerà l'inno d'Italia. L'inno d'Italia lo diventerà successivamente, no? Il testo non è che sia particolarmente, dal punto di vista poetico, dal punto di vista dell'Italia, non è che sia particolarmente significativo, ma comunque è stato scelto, giustamente, no? Anche per omaggiare una persona, un giovane che aveva dato la vita per la Repubblica Romana e per l'Italia. Ora, in quel testo ci sono espressioni che a noi sembrano assolutamente retoriche o poco significative, l'elmo di Scipio, siamo pronti alla morte, ma effettivamente ricalcano il pensiero e i sentimenti delle persone del tempo, cioè di quelli che erano effettivamente pronti alla morte. Erano un'eroica minoranza, erano pochissimi in termini numerici rispetto alla gran parte della popolazione italiana, che d'Italia non sapeva nulla, non voleva nemmeno sapere nulla e non aveva nemmeno gli strumenti culturali per arrivare a farsi un'idea d'Italia. Ecco perché la classe media e la borghesia colta, intellettuale, imbevuta di letteratura, che fa il risorgimento. Un'altra cosa interessante è notare, già nella precedente lezione ne avevo parlato, come la distanza che c'è in Italia tra la classe colta e le classi subalterne è una distanza decisamente più marcata che in altri paesi. Esiste in tutti i paesi, vada sì, però siccome in Italia la letteratura e la cultura italiana, la letteratura italiana in particolare, era nata molto prima rispetto all'idea di nazione, molti secoli prima, un'altra volta ho parlato di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, del Rinascimento, ebbene questa distanza nell'Ottocento era ancora più marcata, cioè quei pochi che sapevano leggere e scrivere avevano un livello culturale da fare invidia al resto d'Europa, ma la massa era assolutamente analfabeta, mancava una situazione intermedia. Vi ricordate quando abbiamo parlato della rivoluzione industriale in Inghilterra? Abbiamo detto che uno dei motivi, delle cause del fatto che la rivoluzione industriale è nata proprio in Inghilterra sta proprio nel fatto che in Inghilterra, al di là di alcuni geni, ma insomma non ci interessano i singoli nomi, esisteva però una classe media più o meno acculturata, comunque alfabetizzata, che aveva delle nozioni magari di bassa lega, ma aveva delle nozioni più o meno significative, tanto da potersi sporcare le mani e da poter mettere mano a invenzioni di natura tecnologica, scientifica, importanti, le abbiamo viste a suo tempo. Ecco, in Italia questa classe media era quasi inesistente o del tutto poco significativa. Considerate che la differenza tra la classe colta e i più è una cosa che è rimasta fino all'altro ieri, o che in certa misura rimane ancora oggi, visto che siamo comunque, l'italiano è comunque una delle lingue più studiate al mondo e la cultura italiana è famosa in tutto il mondo, l'Italia è meta e potrebbe vivere solo di turismo, l'abbiamo detto tante volte, il 50% di tutte le opere d'atti presenti al mondo e così via. Quindi l'Italia come punto di riferimento culturale, faro della cultura europea e mondiale da una parte, e poi le statistiche che ci dicono che pochissimi italiani leggono più di un libro all'anno quando non si tratta delle barzellette di Totti, insomma, poi. Quindi la cultura sembra essere, continua ad essere una cosa in un certo senso per pochi. Beh, chiaramente i tempi sono cambiati, ma insomma questa discrepanza è esistita fino a qualche tempo fa e in qualche maniera esiste ancora. L'ultima cosa, la conquista piemontese, ecco, per moltissimo tempo, dato che le strutture imposte soprattutto alle province del sud, all'ex regno borbonico, erano, diciamo, di origine francese o inglese, ed erano state mediate dal regno di Sardegna, quindi dal Piemonte, tutto sommato l'unità d'Italia fu, dal punto di vista di queste popolazioni che dovettero subire, ecco, la presenza piemontese, fu un fatto non sentito in prima persona, ma un fatto imposto come da uno straniero. Cioè il piemontese è uno straniero a tutti gli effetti, che sia francese, piemontese, inglese o austriaco, al punto di vista del contadino della terra del lavoro in Campania, effettivamente cambiava ben poco, non capiva la lingua. Cioè, pensate a una cosa abbastanza curiosa, abbastanza interessante. Nell'esercito piemontese gli ufficiali, che erano quasi tutti di estrazione aristocratica, o tutti di estrazione aristocratica, parlavano francese, gli ordini li davano in francese. Ecco, pensate che quando nasce il Regno d'Italia, le truppe italiane, ormai neonato Regno d'Italia, che vengono dislocate al sud, parlano francese. Comunque gli ordini vengono dati in francese, vengono dati a una massa di soldati, i quali spesso e volentieri non capiscono il francese, e sostanzialmente le popolazioni che sentono parlare, questi soggetti che hanno in mano la bandiera d'Italia, il tricolore, vestono la divisa dell'esercito italiano, li vedono come degli occupanti stranieri, non li capiscono, ma anche quando questi non parlassero francese, parlassero invece piemontese, o un dialetto del nord d'Italia, non li avrebbero capiti comunque. E questa situazione rimane tale e quale anche nei decenni successivi. vi ricordo soltanto una scena che forse è nella mente di tutti quanti, se non è nella vostra mente l'andate a vedere, una scena della Grande Guerra, di Alberto Sordi, un film girato sempre negli anni 50, dedicato appunto alla prima guerra mondiale, in cui c'è questa scena esilarante, in cui si sentono parlare dei personaggi, questi sono soldati italiani, mettono mano al fucile e sostanzialmente pensano che effettivamente, a inizio magari sono gli ostriaci, è il nemico, e poi dicono no, 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 aspetta, no, no, questi sono alpini dal nord, sono alpini piemontesi, sentite che lingua che parlano, in verità erano tedeschi, per Dio. Ecco, tra di loro non si capivano così bene. Allora, vi rimando dunque alla prossima puntata. Bene ragazzi, riprendiamo la lettura del testo che stavamo affrontando, analizzando la scorsa volta, ovvero il testo di Giuseppe Prezzolini, L'Italia finisce, ecco quel che resta. Stiamo leggendo le pagine che vanno da 246 a 256, e il titolo di questo capitolo, il 26, è il Risorgimento Italiano, una rivoluzione compiuta dagli altri. Riprendo la lettura dal punto in cui l'avamo lasciata la scorsa volta. Eramo arrivati a commentare il fatto che le plebi del sud, in particolare, accolsero i liberatori, gli unificatori, per così dire, come conquistatori. Non li vedevano nemmeno come italiani, non avevano nozione di che cosa fosse l'Italia, ma li appellavano col termine piemontesi, anche perché la maggior parte di loro effettivamente era piemontese. Comunque gli ufficiali dell'esercito e poi i funzionari della burocrazia sono prevalentemente piemontesi. L'altro termine, piuttosto ingiurioso, con il quale li appellavano, era appunto buzzurri, e il termine buzzurro è quello che veniva usato per appellare i montanari svizzeri che vendevano le castagne a rosto. Ma insomma, riprendiamo la lettura. La classe educata, che partecipò attivamente al risorgimento, era per lo più molto influenzata dalla cultura e dal gusto francese. Ben pochi, coloro cui l'Inghilterra parvedegna di essere imitata, ma uno di questi fu il Cavour. Alle sorgenti del pensione italiano originale, come quello espresso dal Machiavelli e dal Vico, che avrebbero potuto dare consiglio e ispirazione, ben pochi ricorsero, per trovare suggerimenti preziosi ed opportuni. Fece eccezione il Cuoco e non fu letto per un secolo. Questo gruppo, tuttavia, non ebbe seguito, fatto evidente nel contrasto fra il Mazzini, il quale criticò e si oppose alla rivoluzione francese, e i suoi stessi seguaci, imbevuti di idee della rivoluzione e sordi a tutta quella parte della dottrina del Mazzini che non approvava l'imitazione della democrazia francese. Siccome la lingua tedesca era poco conosciuta in Italia e, a causa del concetto sbagliato, secondo il quale i tedeschi erano complici degli oppressori austriaci, in realtà nessuna idea venne dalla Germania all'Italia, o, se ne venne, nessuno vi badò. Dunque, mi fermo e commento alla fine di ogni paragrafo, dunque i paesi la cui storia e le cui istituzioni giuridiche e politiche furono prese come esempio dai moti risorgimentali e anche da coloro che pensarono il risorgimento mentre lo facevano, mentre contribuivano a farlo, per esempio il Mazzini. Ebbene, tutti questi presero spunto fondamentalmente dalla Francia e parlare di Francia all'epoca significava parlare della rivoluzione francese, anche dell'epopea napoleonica che evidentemente aveva lasciato dei segni importanti nella penisola, oppure prendere spunto dall'Inghilterra. In effetti il francese era lingua conosciuta dall'élite italiche dei vari stati italiani e in particolare dai piemontesi, come dicevo, lo stesso Vittorio Emanuele II, lo stesso re, a Corte, parlava o francese nelle situazioni ufficiali oppure nelle situazioni diciamo non ufficiali, familiari, parlava il dialetto piemontese, si capivano tra di loro, ecco, parlava pessimamente e scriveva pessimamente in italiano, questo è il monarca, quindi figuriamoci gli altri. Cavour parlava un ottimo francese, del resto nella educazione dell'aristocratico piemontese ma anche dell'aristocratico in generale, poi in tutta Europa il francese all'epoca era d'obbligo, diciamo che il francese nell'ottocento è utilizzato come oggi è utilizzato l'inglese, ecco, è la lingua più conosciuta, fondamentalmente la lingua della diplomazia, ancora oggi il francese, seppure meno utilizzato dell'inglese, continua a mantenere questo statuto di lingua della diplomazia. Del tutto sconosciuto invece è il tedesco il tedesco è una lingua che comunque è associata poi all'Austria, all'Austriaco e l'Austriaco è considerato il nemico numero uno ovvero l'impero oppressore più o meno oppressore che si oppone all'unità d'Italia. In realtà le cose stanno in maniera piuttosto diversa ovvero il tedesco non corrisponde all'Austriaco la Germania Unita ancora non è nata nascerà come sappiamo nel 1871 per il momento la Germania è ancora una confederazione di stati e il capofila è il regno di Prussia la potenza ascendente tra il Settecento e la fine dell'Ottocento ovvero possiamo dire che il regno di Prussia sta alla Germania come il regno di Sardegna il Piemonte sta all'Italia ecco quindi parlare della Germania significa parlare di realtà ulteriori significa piuttosto parlare di Berlino che di Vienna però questa confusione all'epoca era decisamente diffusa tra l'altro è interessante notare come la Germania o meglio il regno di Prussia sarà alleato del neonato regno d'Italia durante la campagna del 1866 cioè durante la terza guerra di indipendenza ma insomma il modello tedesco dibattito politico che è avvenuto in Germania pensate al capitolo che abbiamo studiato sulla nascita del nazionalismo tedesco collegato comunque alle idee romantiche a Fichte Schelling da una parte ai fratelli Schlegel ma anche collegato alle prime teorie razziste ecco di questo dibattito in Italia si sa poco nulla comunque si partecipa poco sicuramente poco dal punto di vista politico forse qualcosa anzi indubbiamente qualcosa dal punto di vista letterario e culturale rimane ma dal punto di vista politico poco o nulla dunque i due i due modelli che l'elite italiane sia quelle intellettuali che poi quelle politico-istituzionali prenderanno in esame sono fondamentalmente il modello francese e il modello inglese in primis il modello francese per ovvi motivi anche di prossimità a fare l'Italia unita di fatto è il regno di Sardegna cioè il Piemonte e come sappiamo il Piemonte meglio il regno di Sardegna il nucleo iniziale il regno di Sardegna è pienamente in territorio francese ovvero come dicevo il Savoia Vittorio Emanuele II prima di lui Carlo Alberto Vittorio Emanuele I e così via naturalmente tutta la dinastia dei Savoia parla francese perché sono appunto oggi diremmo sarebbero a pieno titolo cittadini francesi la Savoia è una regione oggi fa parte della Francia e se vi ricordate effettivamente fa parte della Francia soltanto dal 1859 ovvero fu ceduta alla Francia a Napolione III insieme a Nizza quindi a un pezzettino della costa azzurra in occasione della seconda guerra di indipendenza come compenso alla Francia di Napolione III in cambio dell'aiuto che Napolione III fornirà al regno di Sardegna per sconfiggere l'esercito imperiale asburgico quindi il regno di Sardegna avrebbe guadagnato effettivamente guadagnò la Lombardia ma cedeva in cambio la Savoia e cedere la Savoia fu comunque un prezzo piuttosto caro da pagare perché la Savoia aveva dato i Natali come indica il termine stesso alla dinastia quella dei Savoia per l'appunto dei primi re d'Italia e gli unici effettivamente parliamo dell'Italia moderna del regno d'Italia quello del 1861 e ancora oggi diciamo i discendenti dei monarchi in esilio sono appunto dei Savoia ecco i Savoia dunque per tutta una serie di motivi non ultimo quello che ho appena detto sono direttamente collegati con la Francia sono di cultura di cultura francese e poi naturalmente c'è il modello napoleonico di cui abbiamo già detto la scorsa volta e quindi l'idea della provincia della prefettura dello Stato fortemente centralizzato anche la stessa idea del concordato con la Chiesa Cattolica evidentemente furono riprese dall'esperienza francese e in particolare dall'esperienza napoleonica e invece ecco sottolinea Prezzolini in questo in questo paragrafo che abbiamo letto che effettivamente sembra paradossale ma l'Italia Unita la si fa prendendo spunto dai modelli dal modello francese e in subordine dal modello francese e dal modello inglese e in subordine si fa per dire perché Cavura che era ammiratore del modello inglese è il vero artefice indubbiamente dell'unità d'Italia per come si è realizzata effettivamente nel 1860 1861 il modello inglese a sua volta aveva dato avvio anche all'illuminismo l'illuminismo settecentesco che parlerà francese ha comunque l'imbeccata dell'illuminismo inglese pensate a personaggi come John Locke o David Hume Locke lo abbiamo studiato in filosofia lo riprenderemo il prima possibile a proposito del concetto di tolleranza Jung lo studieremo a Dio piacendo tra aprile e maggio vediamo un attimo come va la situazione della quarantena obbligata ma insomma il modello inglese il modello francese lo possiamo dare per scontato la cosa piuttosto eccezionale ecco che fa riflettere piuttosto paradossale che effettivamente di modelli culturali da cui prendere spunto pure in Italia ce n'erano in Italia comunque scritti scriventi in italiano qui cita il Machiavelli che conosciamo bene voi in particolare lo conoscete decisamente bene il Vico di cui abbiamo detto poco o nulla ma di cui poi evidentemente parleremo grande filosofo della storia filosofo vissuto nel settecento che anticipa poi alcune tematiche dello storicismo tedesco dell'idealismo tedesco che vedremo ecco successivamente ecco però questi intellettuali italiani non sono quasi per nulla presi in considerazione quindi dalla Germania non viene nulla dall'Italia viene poco o nulla a parte qualche eccezione mentre dalla Francia e dall'Inghilterra vengono la gran parte delle fonti di ispirazione politiche giuridiche civili che poi daranno vita si concretizzeranno nel neonato Regno d'Italia riprendo la lettura di Prezzolini in realtà il risorgimento fu una sovrastruttura di un'Europa ricca industriale che si adagiava su un'Italia povera e stagnante con la forza delle armi e l'avvento delle idee che trionfavano altrove il risorgimento introdusse un regime non sentito dalle masse del popolo l'Italia aveva veduto i comuni l'elite aristocratiche e gli assolutismi stranieri cioè le oligarchie le tirannie e il governo imposto dai conquistatori essa li aveva chiamati o accettati dopo una conquista ma non aveva mai sentito il desiderio né espresso il bisogno di istituzioni basate sulla divisione dei poteri con quello giudiziario indipendente dal potere politico del governo e col potere esecutivo separato da quello legislativo tali istituzioni costruite a poco a poco attraverso secoli di lotte e di adattamenti in Inghilterra da un popolo di carattere diverso non funzionarono mai bene in Italia né in quegli altri paesi nel Sud America o nei Balcani dove furono introdotte circa lo stesso tempo pochi anni dopo che queste forme cominciarono ad operare in Italia storici critici e giornalisti della cerchia liberale riconobbero apertamente le manchevolezze inerenti a quel tipo di regime tali istituzioni avevano l'apparenza ma non la realtà di un governo parlamentare democratico la data fatale segnata dagli storici è il 1876 quando il vecchio partito formato di rispettabili proprietari terrieri chiamato la destra storica cedette il governo ad un nuovo partito di avvocati per lo più del Sud chiamato la sinistra da allora in poi gli eventi si susseguirono con rapidità precipitosa fra il 1880 e il 1900 vi fu una valanga di libri e di articoli da parte di studiosi e di personaggi politici o di politici che erano studiosi come il il Villari Turiello Fortunato Mosca Parete eccetera essi cercarono di analizzare la crisi ma nessuno vive allora che si trattava di una disarmonia fra le istituzioni straniere e lo spirito di un paese che le aveva accolte ma non create se posso permettermi l'analogia fu la crisi di chi indossava abito e scarpe fatti per un altro e poi si accorge che gli stanno male ecco fermiamoci un attimo qui quello che nota Prezzolini è il fatto che effettivamente a guardare in senso retrospettivo la storia d'Italia le istituzioni borghesi cioè il Parlamento basato su elezioni censitarie pensate che alle prime elezioni quelle del 1861 partecipa solo un'infima parte della popolazione italiana parliamo di numeri che non superano l'1% della popolazione italiana effettivamente parlo sempre dei maschi adulti e dunque una partecipazione molto ristretta ecco però nonostante tutto parliamo di un modello quello parlamentare no censitario ma parlamentare che è una grande innovazione rispetto all'assolutismo ecco la storia d'Italia era stata caratterizzata da situazioni in cui effettivamente uno la divisione dei poteri esecutivo legislativo e giudiziario che è tipica del pensiero liberale quindi di matrice inglese non aveva assolutamente preso piede no spesso e volentieri all'epoca diciamo nell'epoca delle signorie insomma nel tardo medioevo se vi ricordate si preferiva assegnare dare il potere ad un dittatore o ad un capigliano del popolo straniero che mettesse ricomponesse con la forza le controversie interne a questa o a quella città piuttosto che basarsi diciamo su istituzioni autonome e al limite possiamo parlare di modello entro certi limiti ecco parlamentare borghese democratico soltanto a proposito dei comuni tra il 1100 e il 1300 quindi parliamo sempre del medioevo dopodiché come sapete i comuni si trasformeranno piano piano in signorie e dopo le guerre d'Italia tra la fine del 400 e l'inizio del 500 la gran parte degli stati italiani cadranno sotto il controllo delle potenze straniere dunque a quel punto istituzioni di tipo borghese parlamentari e divisione del potere rimarranno assolutamente ignoti il 600 il 700 e gli italiani sono caratterizzati appunto dal dominio di potenze assolutistiche il primo momento prima la Spagna poi successivamente l'Austria il momento in cui effettivamente anche l'Italia riceve questo incontro alla storia moderna ecco le idee che provenivano dall'Inghilterra da Londra e poi da Parigi e subito dopo la rivoluzione francese lo abbiamo già detto quindi in epoca napoleonica sostanzialmente prima d'allora queste idee o questi modelli istituzionali sono naturalmente sono assolutamente estranei ecco dunque il modello il modello parlamentare quindi questo tipo di regime che aveva aveva adottato il Piemonte e l'aveva adottato il Piemonte di Carlo Alberto parliamo del famoso statuto albertino la grande conquista permanente una delle poche conquiste permanenti dei moti del 1848 e poi della successiva guerra di indipendenza guerra di indipendenza condotta da Carlo Alberto di indipendenza comunque di conquista di annessione della Lombardia quello era l'obiettivo dei Savoia sostanzialmente si conclude con nulla di fatto anzi conclude con la sconfitta a Novara dell'esercito piemontese tuttavia Carlo Alberto che poi abdicherà aveva emanato nel frattempo il famoso statuto albertino che è assolutamente moderno per l'epoca basato anche qui sul parlamentarismo inglese e francese che rimarrà in vigore fino all'emanazione della Costituzione all'entrata in vigore della Costituzione quella del 1947 dunque per un secolo ecco un secolo di statuto albertino è sicuramente una conquista decisamente permanente ecco questo sistema sostanzialmente entrerà in crisi con nel passaggio diciamo tra la destra storica prezzolini segnala l'anno spartiacque del 1876 anno in cui la destra storica cosiddetta destra storica poi lo vedremo successivamente cederà il potere alla sinistra storica la destra e sinistra sono categorie diverse da non confondersi con i concetti di destra e sinistra che poi prenderanno piede nel corso del novecento per il momento con destra ecco vi posso dire che con la destra storica si intende l'orientamento quello che era stato di Cavour quindi diciamo liberal conservatore mentre la sinistra storica la potremmo definire liberal democratica in un certo senso quindi è per l'allargamento del suffraggio non ancora evidentemente per il suffraggio universale per la modernizzazione dello Stato mentre la destra storica è per il pareggio di bilancio che sarà poi la sua principale conquista fino al coaffardato al 1876 anche perché il problema fondamentale uno dei primi problemi che si presenta nel neonato regno d'Italia è proprio il bilancio cioè il sanare le casse dello Stato che sono state messe a dura prova dai vari conflitti tra le varie guerre di indipendenza e dunque ecco per concludere Prezzolini usa questa metafora interessante alla fine l'Italia si ritrova per analogia come chi indossi un abito delle scarpe fatte per un'altra quindi tagliate su un'altra misura che cosa significa che effettivamente intrappolare la realtà socio-economica culturale del popolo italiano che ancora non sa nemmeno di essere popolo italiano nelle istituzioni nei modelli istituzionali francesi e inglesi o piemontesi che dir si voglia fu sostanzialmente un'operazione un'operazione forzata una vera e propria forzatura ecco perché perché quei modelli non erano stati creati in Italia erano stati creati adattati in altre epoche storiche e in altri contesti civili culturali sociali all'Italia vengono per così dire imposti vengono imposti con la forza perché beh è un pochino questo è un problema che hanno tutte le nazioni tutti gli stati che si trovano a rincorrere il modello il modello del progressivo poi l'idea del progresso nasce come sapete nel settecento con l'illuminismo si afferma sempre di più poi riguarderà tutta l'Europa e ancora oggi alla fine abbiamo delle potenze degli stati cosiddetti del primo mondo che guidano il progresso a livello mondiale economico tecnologico in primo luogo poi delle potenze di secondo rango fino ad arrivare a un terzo o un quarto mondo addirittura ebbene le potenze aprifila per così dire impongono uno il passo lo sviluppo il passo di sviluppo quindi l'idea la velocità del progresso poi impongono le regole del gioco economico e economico tecnologiche oggi ma anche nell'ottocento invece i paesi in via di sviluppo e l'Italia all'evo era un paese in via di sviluppo indubbiamente un paese di seconda fascia e nasce come un paese di seconda fascia ecco e sono costrette a rincorrere e quindi a calzare ecco adattarsi a calzare delle scarpe che non sono le proprie cioè adattarsi a dei modelli economico tecnologici e in questo caso politici che non gli competono ecco che non hanno nulla a che vedere o hanno poco a che vedere con la loro storia riprendo la lettura di Prezzolini c'è una linea di divisione nella storia del risorgimento italiano ormai classica il 1848 separa le due parti fino al 1848 il movimento si sviluppò sotto l'influsso del Mazzini dopo il 1848 predominò il Capur sebbene i periodi così rigidamente divisi vanno accettati con riserva questo è un caso in cui la data precisa è giustificata per capirne tutta l'importanza bisogna aggiungere che il programma del Mazzini mirava a compiere l'unificazione e l'indipendenza dell'Italia a mezzo di una insurrezione politica spontanea del popolo italiano con l'idea di fare inoltre di Roma e dell'Italia il centro di una nuova civiltà ma gli avvenimenti del 48-49 furono una grande delusione perché culminarono i sconfitte militari e rivelarono non solo l'incapacità degli italiani ad offrire una civiltà nuova ad altri popoli ma anche la loro incapacità a trovarsi d'accordo fra di loro e a resistere ad un esercito organizzato come quello austriaco eccettuate le eroiche giornate di Milano e la prolungata resistenza di Roma e di Venezia il popolo non partecipò alla lotta i vari governi regionali e i partiti politici apparvero divisi e pieni di sospetti reciproci ciascuno voleva agire a modo suo né si potè trovare un generale per guidare l'esercito piemontese il quale dovette combattere agli ordini di un generale polacco come risultato l'opinione pubblica dopo il 1849 seguì i nuovi impulsi del Cavour il quale ebbe il merito di capire che era necessario legare il destino dell'Italia a quello dell'Europa e che bisognava porre le aspirazioni dell'Italia nel gioco degli interessi delle potenze europee contentandosi di procedere a un passo per volta invece di sognare come i Gioberti e il Mazzini che il mondo era fatto per essere guidato dall'Italia il Cavour considerò l'Italia fatta per essere parte del mondo contando ora sulla Francia e sulla vanità di Napoleone III ora sull'Inghilterra e sui suoi interessi nel Mediterraneo partecipando alla guerra di queste due potenze contro la Russia in Crimea e infine approfittando dell'entusiasmo e dell'ardire di Garibaldi nel cui programma di invadere la Sicilia egli dapprima non credeva ma che sfruttò appena fu attuato il Cavour riuscì a formare il primo regno d'Italia il quale regno non era ancora del tutto unito perché Roma e Venezia rimanevano da conquistare quando con l'appoggio della Prussia nel 1866 e grazie alla guerra franco-prussiana del 1870 i successori del Cavour completarono l'unità d'Italia ottenendo Roma e Venezia ma non Trieste nel Trentino con lo stesso metodo di approfittare delle divisioni dell'Europa e così soddisfare il desiderio dell'unità sentito dalle classi superiori italiane fu possibile allora dire che l'Italia era fatta il senso realistico e l'abilità del Cavour avevano trionfato sull'entusiasmo e l'idealismo del Mazzini tuttavia non vi fu una terza Italia centro spirituale del mondo che doveva stare a pari con la Roma degli imperatori e dei papi un nuovo stato dell'Europa era stato costituito ma sempre modesto data la sua debolezza senza profonda coesione interna tenuto insieme più dalle rivalità dell'Europa che non dalla propria forza come siamo lontani dal primato del Gioberti e dalla terza Italia del Mazzini allora lo spartiacque è classico lo spartiacque che ricorda Prezzolini cioè il 1848 fino al 1848 vediamo il prevalere delle tendenze insurrezionalistiche per così dire di orientamento democratico mazziniano Mazzini aveva fondato la Giovine Italia distinguendo questa sua associazione questa sua organizzazione patriottica dalle società segrete dai carbonari che avevano inscenato hanno partecipato ai moti del 1820 21 e poi ai successivi moti del 1830 senza successo il motivo che Mazzini aveva riscontrato aveva rilevato il motivo dell'insuccesso era basato sul fatto che si trattava appunto di associazioni segrete che non erano state in grado di coinvolgere la gran parte del popolo dunque era fondamentale coinvolgere il popolo italiano affinché l'Italia fosse fatta dal basso cioè fare l'Italia significava per Mazzini allo stesso tempo compiere una rivoluzione dal basso e alla maniera diciamo tipica dei grandi idealisti per fare l'Italia quindi per realizzare un nuovo stato occorre in primo luogo educare il popolo se è il popolo a dover fare l'Italia è il popolo che in qualche maniera va educato che deve sentirsi in primo luogo italiano dunque per Mazzini vale lo dico così per sommi capi in estrema sintesi il principio opposto a quello del D'Azeglio fatta l'Italia ora occorre fare gli italiani di D'Azeglio e di Cavour invece per Mazzini bisognava fare gli italiani prima dell'Italia o comunque fare gli italiani affinché essi facessero l'Italia o contemporaneamente all'Italia dunque Mazzini aveva in mente un'Italia innanzitutto repubblicana e non monarchica poi alla fine trionfò l'idea monarchica con il Cavour aveva in mente un'Italia democratica quindi votata comunque al suffragio universale non a quello censitario a partecipazione popolare è un'Italia che doveva nascere sin da subito unita in realtà ecco le idee mazziniane il sogno mazziniano si infranse proprio con i moti del 1848 49 con la famosa esperienza fallimentare ma gloriosa della Repubblica Romana di cui Mazzini insieme a Saffi Armellini fu uno dei triumviri avete presente tutti quanti il luogo poi il luogo sacro ecco della Repubblica Romana che è ricordata al Gianicolo no Gianicolo c'è la famosa strada di Garibaldi ci sono i busti di tutti i personaggi che hanno fatto l'Italia e il Gianicolo e lì vicino il vascello furono luoghi eroici luoghi della memoria in cui l'esercito della Repubblica Romana cercò di difendere Roma dall'aggressione dell'esercito francese che nel 1849 cercava e riuscì effettivamente a recuperare Roma e riconsegnandola al Papa ecco Mazzini aveva sperato fino a quel momento in una sollevazione complessiva del popolo italiano questa sollevazione lo sappiamo bene e lo nota qui Prezzolini non ci fu dunque le vicende del 48-49 per non parlare del fallimento dei moti degli altri Mazziniani i fratelli Bandiera piuttosto che Carlo Pisacani che furono massacrati appena sbarcati appena sbarcati in Calabria o in Campania l'uno piuttosto che gli altri ebbene il popolo non partecipò se non in minima parte sì qualche romano e poi al di là dei romani piuttosto che dei veneziani parteciparono quella quella classe di di eroici idealisti di cui dicevamo la scorsa volta i Manara i Mameli sono dedicati dei famosi celebri licei italiani ma insomma personaggi tutto sommato marginali e quindi dal 1849 in poi finito ecco esauritasi la stagione mazziniana mazzini non è affatto diciamo non è stato messo da parte mazzini continua a essere attivo ma l'iniziativa passerà poi a Cavour e alla realpolitik di Cavour Cavour ha capito bene che piuttosto che attribuire all'Italia un ruolo da protagonista a livello europeo mazzini dalla giovine Italia dopo la giovine Italia aveva fondato la giovine Europa e il neo-guelfo Gioberti nel primato aveva sostanzialmente attribuito all'Italia un ruolo guida per l'Europa l'Italia come cuore del del papato ecco la visione neo-guelfa di Gioberti prende appunto questo nome perché era basata sul primato della chiesa cattolica quindi l'Italia fa lo di civiltà che avrebbe dovuto guidare l'evoluzione politica dell'intera Europa dell'intero continente Cavour si rende conto in maniera assolutamente realistica ed è per questo che lui riesce nel suo intento si rende conto che non bisogna adeguare l'Europa l'Italia ma piuttosto per fare l'Italia bisogna adeguarsi a quello che è il contesto europeo e quindi il passo come dicevo prima lo scandiscono le potenze di riferimento che continuano ad essere la Francia l'Inghilterra in particolare la Russia piuttosto che l'impero austro-ungarico o il regno di Prussia e a queste realtà e sfruttando i contrasti e le rivalità tra queste potenze che bisogna appellarsi per tentare di realizzare il progetto unitario dell'Italia ed effettivamente questa è la politica che metterà in atto Cavour dal 1849 fino al giorno della sua morte lui morirà un paio di mesi dopo l'unità d'Italia quindi dopo aver fatto il regno d'Italia il 17 marzo del 61 quindi l'Italia perderà il suo principale artefice e dunque qual è il lavoro di Vavorra? beh il lavoro di Vavorra è fondamentalmente un lavoro di diplomazia con la partecipazione alla guerra in Crimea da una parte e con 1853 1856 e con il premere diciamo alla corte di Napoleone III c'è anche questo personaggio famoso di cui abbiamo detto qualcosa del forum ovvero la famosa contessa di Castiglione che spia comunque diplomatica che agisce nelle stanze segrete del potere che riesce in qualche maniera si vuole la tradizione ma vogliono anche i documenti storici a portare Napoleone III dalla parte del regno di Sardegna in funzione anti-austriaca e quindi da qui la seconda guerra di indipendenza e il successo dell'esercito franco-piemontese contro l'Austria ecco allora la partecipazione alla guerra di Crimea ovvero il fatto che il pur piccolo regno di Sardegna il Piemonte contribuisce con un contingente poco significativo dal punto di vista numerico dal punto di vista militare ma comunque un segno tangibile che il Piemonte si appresta ad essere accolto nel consesso nel più ampio consesso europeo e quindi può andare a bussare alle porte giuste cioè a Londra e a Parigi in particolare per far valere la causa italiana questo è assolutamente fondamentale ecco grazie quindi alla pazienza all'intelligenza alla realpolitik di Cavour effettivamente si riuscì a fare l'Italia Italia che se si fosse rimasti all'idealismo mazziniano probabilmente non sarebbe nata o non sarebbe nata in quel momento con quelle condizioni e con quelle caratteristiche ecco va bene allora per oggi ci fermiamo qui continuiamo la prossima volta riprendiamo le nostre lezioni sulla storia del risorgimento italiano con la lettura della terza e ultima parte del testo di Giuseppe Prezzolini l'Italia finisce ecco quel che resta è il capitolo dedicato all'unità d'Italia il capitolo 26 per l'esattezza eravamo arrivati a leggere e a commentare la parte dedicata alla lotta risorgimentale alle lotte risorgimentali prima seconda guerra di indipendenza poi c'eravamo spinti anche oltre alla terza guerra di indipendenza e alla presa di Roma ma insomma la lettura di Prezzolini si era interrotta con la nascita del regno d'Italia quindi il 17 marzo del 1861 e l'inizio della cosiddetta situazione post-unitaria della storia post-unitaria la storia post-unitaria è sostanzialmente quella che va dal 1861 fino alla fine dell'Ottocento quindi quest'anno ci dedicheremo a questo periodo di storia poi l'anno prossimo riprenderemo la narrazione con la storia novecentesca allora la lettura di Prezzolini da questo punto questo argomento va abbastanza veloce abbastanza sintetica quindi mi limiterò adesso a leggere a commentare le affermazioni di Prezzolini e poi dedicheremo al periodo post-unitario un ciclo di lezioni a sé stante nell'osservare l'unità italiana recentemente raggiunta molti si accorsero che qualcosa di essenziale mancava esisteva lo Stato ma non i cittadini uno scrittore statista disse la frase è rimasta celebre l'Italia è fatta facciamo gli italiani le menti più aperte della nuova Italia nel meditare sulle condizioni sociali e politiche avvertirono il vuoto su cui era stato fondato il Regno la frase è di Massimo Dazzegno il vuoto su cui era stato fondato il Regno è un'affermazione veramente molto forte era nato lo Stato era stato fortemente evoluto era stato fortemente evoluto da un'elite da una più o meno eroica minoranza era stato fortemente evoluto da Gavur era stato voluto anche da altri personaggi assolutamente importanti quelli che poi sostanzialmente vengono ancora ricordati nelle statue di bronzo o di marmo ma che se si fossero incontrati di persona probabilmente si sarebbero presi per i capelli Mazzini per esempio il corso Mazzini confina sempre o finisce sempre in piazza Gavur piuttosto che in corso vittorio Emanuele ma Mazzini come sappiamo era perseguitato nel regno di Sardegna condannato in contumacia ovvero in un secondo momento è stato come dire nominato padre della patria riconosciuto padre della patria nella storia monumentale ma se negli anni cruciali del 48 fosse capitato nelle mani della polizia piemontese probabilmente sarebbe stato messo a morte però ecco pochi avevano voluto l'Italia tra cui personaggi anche in forte disaccordo tra di loro come abbiamo visto ma quello che mancava in quel momento era la la cittadinanza cioè una diffusa radicata coscienza civica il sentirsi italiani significa questo quindi il sentirsi italiani da un punto di vista civico dal punto di vista politico non ha nulla a che vedere con lo Stato in sé per sé con le strutture con le istituzioni dello Stato in sé per sé le istituzioni dello Stato possono anche esserci le leggi possono anche essere emanate ma la capacità che ha il singolo cittadino di riconoscersi innanzitutto di riconoscersi in quanto cittadino di avere la coscienza di essere cittadino e di identificarsi con tali istituzioni e con i principi i valori condivisi su cui queste istituzioni effettivamente dovrebbero riposare sono ecco è ben altra cosa quindi formare la coscienza del cittadino è molto più complesso è molto più lungo anche dal punto di vista del tempo storico del formare del far nascere del generare magari a volte in maniera anche posticcia o improvvisa ecco subitanea del formare uno Stato quindi l'osservazione di Prezzolini indica proprio questo effettivamente a fronte lo abbiamo già rilevato a fronte di altri stati in cui sostanzialmente la coscienza civica la coscienza civile si era stratificata nel corso dei secoli e quindi si era andata formando dall'inizio dell'età moderna o dalla fine del medioevo sino a quel periodo sino all'ottocento del novecento pensate al caso della Francia o della Gran Bretagna della Spagna e così via la coscienza dell'italiano del cittadino italiano è decisamente più giovane è decisamente quindi più 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 impermanente anche più volatile perché ha avuto meno tempo per stratificarsi da qui tutta una serie di problemi di considerazione insomma ancora oggi è la coscienza italiana la coscienza del cittadino italiano che ha 150 anni che ormai dovrebbe essersi più o meno formata più o meno radicata conosce diciamo delle zone d'ombra pensate anche al ecco al fatto che due importanti momenti della nostra storia momenti forse più più significativi quelli da cui sostanzialmente sono nate prima la monarchia costituzionale il regno d'Italia e in un secondo momento la repubblica italiana furono caratterizzati da vere e proprie guerre civili mi riferisco nel caso della nascita del regno d'Italia alla guerra civile il termine quello che si usa oggi lo si può usare in maniera assolutamente consapevole e senza timore di smentite dal punto di vista storico qualche tempo fa non lo si poteva usare era meglio non utilizzarlo per tutta una serie di motivi politici ma insomma il termine guerra civile si riferisce a quella combattuta contro il cosiddetto brigantaggio nel sud dell'Italia negli anni che vanno dal 1861 dal marzo del 1861 fino al 1863 64 con grande intensità ma poi anche negli anni a venire in maniera endemica questa guerra che poi è nota con il termine brigantaggio fece molti più morti tenne impegnata una quantità di soldati che le guerre di indipendenza non avevano effettivamente coinvolto ecco pensate che l'esercito italiano il neonato esercito italiano che era sostanzialmente quello di derivazione piemontese ma adesso allargato con la leva obbligatoria a tutti i cittadini del regno a tutti i sudditi del regno tiene impegnata una parte considerevole i suoi effettivi quasi la metà dei suoi effettivi 80-90 mila soldati in pianta stabile per presidiare il sud d'Italia ex regno borbonico in cui decine di migliaia di briganti questa è la definizione effettiva delle autorità del tempo briganti per qualcuno oggi patrioti anche loro si definiscono comunque briganti ribelli in alcuni casi sono legittimati si sentono legittimati dalla autorità borbonica che preme sugli stessi briganti per ritornare in sella fino all'ultimo i borboni che sono stati scacciati da Garibaldi e poi definitivamente la vittoria Emanuele II sostanzialmente per alcuni anni almeno fino alla caduta di Roma fino alla presa di Roma il 20 settembre 1870 in collaborazione con la complicità anzi con l'appoggio aperto dichiarato della Chiesa Cattolica sperano tramano per poter rimettere le mani sul trono abbattuto quindi abbiamo una parte quella dei cosiddetti briganti molti di quali sono dei comuni criminali altri sono personaggi che si ribellano per motivi sociali economici per sfuggire dalla miseria per sfuggire alla leva obbligatoria altri invece colgono la valla al balzo e sostanzialmente si fanno alfieri della causa borbonica ecco questo periodo che è un periodo effettivamente di guerra civile farà molti più morti di tutte le guerre di indipendenza messe insieme l'altro periodo a cui mi riferisco è la guerra civile o la resistenza il fenomeno che chiamiamo resistenza del 1943-45 con le propaggini successive e anche qui effettivamente con questi due momenti cruciali della nostra storia il popolo italiano si ritrova a creare un nuovo modello culturale cultural-politico istituzionale ma versando sangue della sua stessa gente quindi nascono due guerre civili importanti per così dire allora fare l'Italia era semplice era stato relativamente semplice semplice si fa per dire non ci fosse stato cavoro probabilmente bisognava attendere ancora molti anni fare gli italiani sarà si rivelerà decisamente più complesso e questo lo si vede da subito vediamo gli elementi critici che Prezzolini individua prima di tutto il sistema parlamentare operava soltanto per mezzo di finzioni elegibile al Parlamento era solo chi possedeva beni o ricchezze la corruzione elettorale era grande i partiti non avevano veri principi che li distinguessero con De Pretis le distinzioni fra destra e sinistra furono dissolte dando così origine al fenomeno del cosiddetto trasformismo allora il sistema parlamentare che opera per mezzo di finzioni questa è un'affermazione un po' discutibile cioè finzioni dal nostro punto di vista dal punto di vista di chi è abituato ad associare allo stato liberale al concetto di stato liberale il concetto di democrazia quindi nel novecento si parla di liberal democrazia però ecco per l'ottocento non si tratta esattamente di una finzione lo stato all'epoca era liberale dunque il fatto che fosse elegibile al parlamento solo chi possedeva beni e ricchezze è assolutamente coerente alla visione politica del tempo ovvero la partecipazione attiva e passiva quindi come elettore o come papabile come elegibile al parlamento alla camera dei deputati il senato nello statuto albertino era di nomina reggia quindi i senatori erano scelti direttamente dal re nella camera alta beh era appannaggio quindi l'eligibilità al parlamento e il diritto al voto era appannaggio soltanto della classe più avviente quindi una ristretta ristrettissima parte della popolazione dunque il termine finzione ecco si si riferisce a questa scarsa partecipazione che sostanzialmente è fatta a pandà quel mancato coinvolgimento della gran parte della popolazione italiana all'epoca l'alfabetismo era così diffuso da toccare in alcune regioni quasi il 90% dei cittadini che comunque non avrebbero comunque nemmeno potuto partecipare attivamente alla vita politica tantomeno alla vita diciamo sociale culturale del paese in questo senso si parla di finzione un altro un altro motivo per cui si parla di finzione è per esempio il famoso sistema dei il famoso sistema dei plebisciti con il quale si era sancito l'accorpamento degli ex stati italiani Toscana l'Emilia Romagna e lo stesso regno regno delle due Sicilie al regno d'Italia destra e sinistra destra e sinistra sono concetti diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati noi a destra e a sinistra storica sono ambe due partiti borghesi partiti liberali la differenza quindi nulla a che vedere con la destra intesa in senso fascista o nazionalista e la sinistra di stampo marxiano ecco destra e sinistra sono tutte e due partiti liberali quindi dal punto di vista del pensiero novecentesco sono entrambi per così dire conservatori all'epoca la destra è quella che eredita la linea politica moderata di Cavour la sinistra invece è quella più aperta in senso riformistico più dinamica più tendente ad allargare la partecipazione alla vita politica all'intera popolazione italiana all'intera beh per gravi naturalmente l'idea è che comunque indubbiamente di acqua sotto i ponti ne dovrà passare parecchia quindi prima il governo sarà la destra fatta da personaggi più o meno intergerrimi i quali avranno come obiettivo il risanamento dei conti pubblici e poi la realizzazione dell'unità d'Italia cioè il controllo effettivo del territorio come dicevo prima il controllo del territorio soprattutto del sud dell'Italia il pieno controllo del territorio si realizzerà soltanto dopo alcuni anni vaste zone del sud dell'Italia sono nelle mani dei cosiddetti briganti quindi spesso sono delle zone in cui l'autorità dello Stato non viene esercitata quindi diciamo i problemi che affronta la destra i problemi immediati sono quelli di concretizzare l'unità d'Italia in termini di controllo del territorio di risanamento delle casse di omologazione dei vari sistemi giuridici di integrazione dei sistemi viari delle infrastrutture di integrazione economica della penisola una volta portato a termine questo compito la sinistra successivamente partì dal 1876 quindi un primo diciamo venticinquennio vede la vita politica italiana dominata dalla cosiddetta destra storica e il periodo successivo fino agli anni 90 dell'ottocento vede al potere la cosiddetta sinistra storica che allargerà pian piano la partecipazione del del resto della cittadinanza italiana alla vita politica sociale ed economica la sinistra storica poi dovrà gestire il passaggio cruciale della cosiddetta seconda rivoluzione industriale o meglio diciamo della fase di industrializzazione di nascita dell'industria italiana quindi della modernizzazione effettiva dell'Italia che a quel punto inizia diciamo la sua scalata la sua corsa al potere all'epoca dell'imperialismo proponendosi come potenza di secondo livello indubbiamente ma che aspira anch'essa ad un dominio coloniale a estendere diciamo i propri confini non solo geopolitici ma anche economici al resto del mondo in particolare alle colonie africane tentativo che alla fine dell'ottocento condurrà alla disfatta di Adua nel 1896 quindi con la prima battuta del resto dell'esperienza coloniale italiana riprenderà poi nel secolo successivo nel 1911 all'epoca di Giuritti con la conquista della Libia ma di questo poi parleremo quindi questo è il grosso modo della periodizzazione a cui si riferisce qui Prezzolini quindi la destra che governa dal 1861 fino alla metà degli anni settanta e la sinistra che governa il paese tra il 1876 e la fine del secolo secondariamente scusate l'altro termine importante è il concetto del termine trasformismo trasformismo è un modo per dire che effettivamente queste due aree politiche si può parlare esattamente di partiti politici come poi si parlerà nel novecento queste due aree politiche non hanno delle ideologie di riferimento solide ben determinate alle quali effettivamente aderiscono gli uni piuttosto che gli altri quindi spesso e volentieri il paese è governato da maggioranze che si formano in maniera estemporanea a seconda delle convenienze da cui il termine trasformismo che evidentemente ha un'accezione negativa il cambiare il Voltar Gabbana il cambiare bandiera spesso e volentieri che è una dei mali diciamo che ancora oggi o fino a qualche tempo fa ha contraddistinto e anche oggi diciamoci la verità ha contraddistinto la vita politica deputati che per esempio sono stati eletti nelle file di questo di quel partito che per motivi personali a volte chiaramente diciamo di interessi insomma che fanno gridare allo scandalo ecco di interessi di persone che fanno gridare allo scandalo spesso e volentieri cambiano partito secondariamente riprendiamo la lettura di Prezzolini i poveri cercarono appena fu possibile di fuggire dal regno ne risultò una corrente migratoria sempre in aumento che lasciò intere ragioni spopolate 22 milioni sono gli italiani all'inizio nel corso soprattutto della seconda metà dell'ottocento quindi ancora non negli anni sessanta ma ecco alla fine dell'ottocento una parte significativa dei contadini soprattutto del contado sia del sud che del nord Italia in particolare del sud emigra verso le Americhe l'Australia all'epoca si suoleva dire obbligante o emigrante la crisi economica che diciamo che devasta l'agricoltura soprattutto nel sud dell'Italia getta diciamo nella miseria intere famiglie e quindi costringe la gente a darsi alla ribellione aperta oppure a tentare la fortuna in altri continenti in terzo luogo l'Italia era unita ma solo legalmente in quanto gli italiani delle varie regioni si sentivano isolati infatti lo spirito regionale prevalse su quello unitario l'amore per la propria città era più grande dell'affetto per il paese come un tutto inoltre predominarono anche fra gli italiani del nord e quelli del sud profondi dissensi e notevole disuguaglianza economica quindi grande disuguaglianza da cui la famosa questione meridionale questo è uno degli aspetti fondamentali della questione meridionale la disuguaglianza economica che poi anche sociale politica tra il nord e il sud e poi quella mentalità campanilistica che contraddistingue che aveva contraddistinto la storia italiana e che ancora oggi la contraddistingue pochissimi sono quelli che parlano italiano al di fuori delle città delle grandi città nelle campagne si parla esclusivamente o quasi esclusivamente il dialetto i tassi dell'alfabetismo sono elevatissimi il sentirsi italiani dunque è una variabile poco significativa nella maggior parte dei casi il sud italiano è legalmente anagrafe italiano per così dire ma di fatto si sente compaesano di Matera piuttosto che di Cosenza piuttosto che di Siena e così via oltre a tali fenomeni sociali e politici la questione romana rimaneva insoluta nel campo internazionale mentre il papa si rifiutava di riconoscere il regno di modo che migliaia di cittadini italiani si astenevano dal partecipare alla vita politica quindi oltre alla questione meridionale e al regionalismo al campanilismo di cui abbiamo già detto c'è la famosa questione romana qui abbiamo già accennato ovvero il fatto che per fare l'Italia la si deve fare in funzione anticattolica antipapalina la si deve fare nonostante il papa nonostante la chiesa cattolica o meglio contro la chiesa cattolica abbiamo visto come fine in fondo fino all'ultimo Pio IX appoggerà Francesco II che infatti va in esilio e trova rifugio proprio a Roma poi emigrerà definitivamente in Spagna ma fino all'ultimo da Roma coltiva il sogno di ritornare sul trono di Napoli ecco il papa appoggia l'anziano regime quindi il vecchio regime in funzione antisabauda antimoderna per così dire e quando poi alla fine il regno pontificio cessa di esistere dopo la breccia riporta via la gran parte dei cattolici si troverà sostanzialmente sul gruppone con il famoso non expedit ovvero non lo permetto non è possibile che il cittadino italiano sia cittadino italiano e nello stesso tempo cattolico quindi nella coscienza lacerata del suddito italiano si apriva questa sorta di dilemma o rimango fedele al cattolicesimo e quindi mi curo della mia anima e sto a sentire quello che dice il parroco la domenica in chiesa oppure partecipo attivamente alla vita del regno d'Italia o sono italiano o sono cattolico considerate questa vaccinazione questa ferita che prende complessivamente il nome di questione romana durerà fino alla conciliazione fino all'11 febbraio del 1929 con i patti lateranensi in epoga mussoliniana inoltre riprendo l'elettore di Prezzolini inoltre il nuovo regno era in condizioni svantaggiose per mancanza di prestigio militare in vari paesi il popolo aveva tollerato l'oppressione della classe dirigente quando questa poteva ostentare successi militari come in Prussia o svolgere una politica intelligente che recasse vantaggi e profitti a tutti come in Inghilterra in Italia però questi due generi di prestigio mancavano vi erano sconfitte militari e talvolta fame e sventure dunque il prestigio militare è importante ma abbiamo visto come la maggior parte delle battaglie di sorgimento tolte le imprese garibaldine l'unico grande vero grande generale che ci invidiava che nella memoria ci invidia ancora tutto il mondo è stato indubbiamente Giuseppe Garibaldi ma tolto Giuseppe Garibaldi di altri personaggi di rilievo dal punto di vista militare il risorgimento non ne aveva visti aveva visti degli eroici martiri ma dei professionisti poco significativi Garibaldi non era esattamente un professionista ma di fatto si comportò come tale quindi le vittorie più significative le colze Garibaldi poi l'esercito che il neonato esercito del Regno d'Italia passa di sconfitta in sconfitta la terza guerra di indipendenza quella del 1866 lo abbiamo già detto vede l'esercito e la flotta italiana è sconfitta a custoza l'uno e l'altra all'issa quindi di prestigio militare non si può esattamente parlare e così fu anche per parte del Novecento tolta la prima guerra mondiale ma anche lì segnata diciamo dalla memoria collettiva da capoletto la grande sconfitta quindi la vittoria venne soltanto in un secondo momento venne per il crollo del nostro nemico l'impero austro-ungarico quindi togliamo il discorso del prestigio militare che aiuta ed è fondamentale dobbiamo anche togliere togliere i benefici dal punto di vista socio-economico perché perché il Regno d'Italia soprattutto per quanto riguarda il Sud ma insomma in generale per tutta la penisola nasce all'insegna di fame di sventura fame di sventura cioè l'illusione la promessa che poi non fu mantenuta fatta dai grandi protagonisti del risorgimento e anche buona fede dallo stesso Garibaldi quando libera il sud dell'Italia o conquista il sud dell'Italia libera insomma poi il termine dipende dal punto di vista naturalmente entrambe le chiavi di lettura in un certo senso sono possibili sono possibili perché quella di Garibaldi fu in un certo senso dal punto di vista legale una conquista il Regno di Sicilia era uno stato indipendente eretto da una monarchia e quella di Garibaldi fu un'aggressione vera e propria liberare perché sostanzialmente i Borboni furono cacciati via anche da una presenza significativa tra le file Garibaldine di di gente del sud che non sono soltanto briganti o lazzaroni ma gente che vede nella proposta dei Garibaldi la possibilità di una rivoluzione anche sociale fondamentalmente sono montadini che vogliono la terra e dunque loro in particolare rimangono come dire delusi quindi associano a Garibaldi all'Italia al Regno d'Italia in un primo tempo la speranza di cambiamento significativo delle condizioni di vita ma alla fine si ritrova a che fare con la fame quindi con situazioni simili a quelle di prima se non addirittura peggiori il risorgimento non fu uno sforzo che costasse alle nazioni grandi sacrifici di vita umane in tutte le guerre per l'indipendenza gli italiani persero un totale di 6.000 uomini pensate lo scontro d'arme di Caratafini così strombazzato costò la morte di 15 volontari garibaldini inoltre il successo politico illudeva gli italiani la guerra del 48-49 era stata disastrosa nel 59 fu più fortunata ma con l'aiuto dell'esercito francese mentre nel 66 gli italiani si videro sconfitti dagli austriaci per terra e per mare da una flotta più piccola della loro di questo abbiamo già detto vado avanti come vedremo ciò non era affatto disonorevole per il soldato italiano considerato individualmente screditava piuttosto i capi politici per la loro mancanza di previdenza i capi militari incompetenti e rivali l'uno dell'altro la battaglia di Custosa nel 1866 fu persa principalmente per colpa di queste rivalità e la popolazione civile che mostrava mancanza di disciplina e spesso indifferenza patriottica così il popolo italiano dette prova di coraggio individuale e di ardire ma nell'insieme non fu bellicoso quindi il singolo soldato italiano ha dato prova a più riprese sia tra l'Ottocento e poi anche nelle guerre del Novecento ha dato prova di valore ma la stessa cosa non si può dire dei capi dei condottieri personaggi meiocri dal punto di vista professionale dal punto di vista della loro capacità tattico o strategica o addirittura di bassa lega quindi corrotti comunque meschini quindi che si fanno guidare dalle loro rivalità interne piuttosto che dall'interesse della comunità e dall'interesse di quello che potrebbe essere l'interesse doveva essere l'interesse dei loro soldati e poi la gran parte del popolo italiano che sta ad osservare quello che avviene in maniera distaccata quasi fatalista con la Franza con la Spagna purché si magna tanto vale il Borbone quanto il Savoia non è l'Italia che perde perché io non mi sento italiano io mi sento di trani per così dire è il re che perde al limite che perde la guerra che viene sconfitto che viene cacciato via questo stato di cose era accentuato dall'opposizione del popolo al servizio militare obbligatorio diffusa specialmente nelle province meridionali tale riluttanza era principalmente il risultato dell'assenza di patriottismo piuttosto che di valore poiché lo stesso agricoltore il quale si rifiutava di fare il soldato diventava bandito occupazione dura e pericolosa questo soprattutto nel sud quindi meglio diventare brigante piuttosto che fare il servizio militare nell'esercio italiano infatti le bande dei briganti dopo il 1861 si ingrossano a causa dei tanti renditenti a una leva che non vogliono fare il militare preferiscono darsi al brigantaggio così come in maniera tutto sommato analoga le bande partigiane nel secondo metà il 1943 dopo l'8 settembre si vanno ingrossando per tutti quei giovani che non vogliono militare nell'esercito di Salò e quindi preferiscono darsi alla macchia rifugiarsi in montagna e diventano partigiani ecco preferiscono diventare partigiani in ogni caso qualunque fossero le cause di questo arresto di sviluppo che oggi come allora sono argomento di controversia la nuova classe governante non poteva offrire al popolo un alone luminoso dei triunfi militari la letteratura del tempo per esempio Carducci rivela come questo scoraggiamento fu sentito con espressione di dolore collera e indignazione ma non ispirò mai un vero e serio sforzo per la ricostruzione sicché gli stessi errori e difetti furono ripetuti durante la guerra coloniale la sconfitta di Dogali nel 1887 e quella di Adwa nel 1896 fino all'alba del nuovo secolo con i consueti episodi di valore personale e la solita incapacità organica di fare ed eseguire piani militari di azione tuttavia durante questo periodo dal 1861 al 1900 circa di scoraggiamento e di mediocrità di errori e di conflitti sociali la nazione si rafforzò gradualmente e si invigorì nell'economia per merito del duro lavoro e del paziente risparmio dei poveri e degli umili e per opera di molti della classe media che si astennero dalla politica ma lavorarono in silenzio e risparmiarono per l'avvenire inoltre milioni di italiani avevano lasciato l'Italia per altri paesi d'Europa ed oltremare dove mandavano rimesse alle famiglie rimaste in patria così gli analfabeti erano un compenso rispetto ai politicanti retorici senza attaccamento profondo alla madrepatria gli emigrati risolvevano il problema economico affrontandolo infine tutta l'Europa nel periodo che seguì la guerra del 1870 attuò un grande sviluppo economico dovuto alla colossale industria dell'Inghilterra della Francia e della Germania anche in Russia cominciò a farsi sentire il potere della macchina e la sua capacità di produzione in mezzo a tanta ricchezza crescente anche l'Italia si avvantaggiò perché poter vendere i suoi prodotti agricoli la seta i tessili su mercati più favorevoli insomma come dire nonostante i gravi limiti dell'Italia della politica italiana come nazione neonata quindi nonostante i gravi problemi interni nella seconda metà verso la fine dell'Ottocento l'Italia è coinvolta in quel processo di sviluppo in quel fenomeno che abbiamo detto seconda rivoluzione industriale che si allarga a tutta l'Europa sostanzialmente l'Italia va a traino quindi è ancora alla periferia nell'Europa ma subisce traino la rivoluzione industriale che trova che ha i suoi riferimenti principali nell'Inghilterra nella Gran Bretagna che è la potenza mondiale di riferimento e poi anche nella Germania e nella Francia che tra il 1870 e il 1871 hanno risolto una guerra vinta dalla Germania che nascerà come secondo Reich come potenza diciamo indipendente e unita ma ecco questa guerra risolve i problemi contenziosi e inaugura un periodo di pace lunghissimo che poi arriverà fino alle porte della prima guerra mondiale e questo periodo di pace corrisponde con il grande sviluppo economico della seconda rivoluzione industriale quindi anche l'Italia sostanzialmente si adegua quello che i politici dall'alto non sono stati in grado di fare quindi migliorare sorti sociali economiche del popolo italiano sarà la popolazione stessa a farlo facendo le valigie rigorosamente di cartone tenute con lo spago e migrando all'estero e così come oggi molti emigrati dall'Africa o da altri paesi dell'Asia sostanzialmente mandano a casa le rimesse lavorando in Europa o lavorando specificamente in Italia e con queste rimesse sostengono economicamente i paesi di origine alla stessa maniera e quei milioni di cittadini italiani i nostri concittadini i nostri trisdonni o bisdonni emigrati in America in Sud America negli Stati Uniti in Australia con le rimesse sostennero diciamo fornirono anche i capitali che poi diventarono fondamentali per lo sviluppo industriale di fine secolo l'Italia sviluppò anche la sua grande industria modesta a confronto di quella di altri paesi che disponevano di carbone e di ferro ma cheppure rendeva adeguatamente rispetto alle somme investite in conseguenza dei bassi salari che l'operario italiano si contentava di percepire nell'intervallo 1900-1914 l'Italia godè così del suo primo e solo periodo di prosperità dopo molti secoli cioè fin dal tempo del capitalismo dei comuni anche la vita politica benché non si riformasse né si modernizzasse mostrò maggiore efficacia ed abilità menti che pensavano invece di copiare pedestramente le forme venute da Parigi durante tutto il secolo XIX cercarono e trovarono orizzonti nuovi per la prima volta dopo secoli ebbero influenza all'estero come Benedetto Croce un grande filosofo del 900 in mezzo al vuoto spirituale in cui vivevano le masse e alle finzioni costituzionali dell'apparato statale due movimenti crebbero di forza il socialismo e il cattolicesimo per conquistarsi le masse si servirono dell'ideologia liberale la quale permetteva assemblee e associazioni e dell'educazione pubblica che il nuovo stato sebbene in maniera inadeguata aveva cominciato a provvedere il socialismo si rivolse soprattutto ai lavoratori delle città il cattolicesimo principalmente alle classi rurali questi due partiti riempirono il vuoto lasciato dai liberali superando il liberalismo e conquistandolo con le sue stesse armi non si può asserire che i due movimenti fossero contrari agli interessi del paese perché le richieste delle masse italiane tennero i due gruppi legati alle fortune e alle sfortune dell'Italia ma le loro ideologie li portarono a cercare un centro di attrazione fuori dalla tradizione risorgimentale liberale nazionale infatti il socialismo e il suo successore logico il comunismo si basano sul concetto della distinzione di classe la democrazia cristiana si basa sulla fede religiosa ambedue tendono a porre i concetti di nazione e di libertà al di sotto di quelli di società e fede ecco quest'ultimo paragrafo ho preferito leggerlo tutto d'un fiato insomma quindi si diceva che effettivamente l'Italia alla fine dell'Ottocento sviluppa la sua industria sul famoso triangolo del nord Milano Torino Genova comunque partecipa attivamente entra a far parte del congresso delle vere potenze del tempo e inizia a produrre anche cultura a produrre a esportare cultura insieme alle merci per esempio qui fa l'esempio di Benedetto Croce insomma diciamo che l'Ottocento in termini filosofico culturali parla beh indubbiamente parla il tedesco pensate all'idealismo tedesco Nietzsche Marx parla in subordine il francese o l'inglese e nel Novecento iniziamo anche a trovare dei pensatori italiani di fama internazionale non che nell'Ottocento ci siano stati dei grandi pensatori italiani ne abbiamo parlato quando abbiamo descritto che sommicati le correnti ideologiche le correnti di pensiero risorgimentali tuttavia queste correnti di pensiero non avevano avuto non ebbero sostanziale una sostanziale influenza all'estero non ebbero impatto sull'estero come invece ebbero impatto in Italia i pensatori tedeschi francesi o inglesi e poi ecco le masse le masse si presentano sul palcoscenico della storia alla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento è necessario imbrigliarle queste masse e guidarle perché le masse sono fondamentali per il nuovo stato industriale le masse sono quelle che muovono e si trasformano da contadini in operai e muovono le macchine e fanno andare avanti le industrie e quindi vanno coinvolte dunque dal sistema liberale su base censitaria che quindi coinvolge pochissime persone sostanzialmente c'è bisogno pian piano di coinvolgere un numero di cittadini sempre più ampio cioè di coinvolgere di organizzare le masse e questo è il motivo per cui nascono quei partiti di massa quello cattolico che in realtà nascerà all'inizio degli anni venti anche screditato dalla stessa chiesa cattolica ma insomma il mondo cattolico inizia a organizzarsi politicamente anche perché la gran massa dei cittadini italiani comunque rimane fedele alla visione cattolica rimane religiosamente collegato alla chiesa cattolica e poi c'è il nuovo partito quello socialista quello che nasce dall'internazionale fondata da Marx di ispirazione marxiana che organizza soprattutto le masse nelle città le masse operai mentre il mondo cattolico è il partito partito quello che poi sarà il partito popolare di Don Sturzo inizio anni venti e poi diventerà dopo la seconda guerra mondiale la democrazia cristiana ecco questo il partito cattolico si rivolge fondamentalmente alle campagne ai contadini quindi il contadino viene in qualche maniera gestito attirato organizzato attirato ideologicamente organizzato dal partito popolare dal partito poi successivamente alla democrazia cristiana mentre l'operaio della città sposerà la visione marxiana sarà organizzato dal partito socialista e questi due gruppi sostanzialmente anticipano alla fine dell'ottocento il partito socialista italiano negli anni 90 dunque alla fine dell'ottocento inizio del novecento anticipano poi quelle distensioni politiche quelle classificazioni politiche che dicevamo prima quelle moderne a cui siamo più o meno abituati con lo sguardo retrospettivo noi cittadini del ventunesimo secolo evidentemente nel ventunesimo secolo le cose sono decisamente cambiate oggi è difficile parlare di partiti politici o si parla di partiti politici secondo una concezione che non è più quella del novecento quella del novecento solta non è quella dell'ottocento allora la prossima volta ci occupiamo quindi oggi terminiamo la lettura di Prezzolini che vale diciamo come introduzione generale la prossima volta vi vedremo in maniera analitica dettagliata i problemi a cui andò incontro l'Italia post-unitaria quindi al 1861 arriveremo attraverso una serie di lezioni fino alla fine del diciannovesimo secolo che ci si troppe che ci si troppe un'ottocento l'ottocento che si troppe a una serie di lezioni che si troppe all'ottocento la gamma